Perché a Castel di Sangro è cominciata la seconda parte del ritiro azzurro per il Napoli allenamento a porte aperte, andiamo da Ciro Venerato. Buonasera dallo Stadio Patini di Castel di Sangro, allenamento ormai agli Sgoccioli, primo allenamento qui in Abruzzo del Napoli di Garzia che un'ora fa poi ha avuto un colloquio a bordo campo col presidente De Laurenti. Che stanno sicuramente parato di calcio mercato perché poco dopo poi è sopraggiunto il direttore sportivo Meluso, giorni decisivi per il rinnovo di Osimè, abbraccio di ferro con la gente che chiede ad oggi una clausola più bassa e uno stipendio più alto. Note positive invece arrivano da Zeninsky, bisogna però definire il quantum perché Zeninsky vorrebbe non rinunciare ai 4 milioni e mezzo del primo anno e quindi non spalmare poi nel futuro triennale o quadriennale lo stipendio percepito in questa stagione. Ma anche lì c'è grande ottimismo invece, grandi dubbi sul difensore che doveva rimpiazzare Kim, si aspettano risposte da Lance per Danzo e dal Wolverhampton per Kilman. Accordo raggiunto con entrambi i giocatori, non ancora invece con i rispettivi Sodalizio. A centrocambio invece ci sarebbe un Mr. X individuato dallo scouting azzurro e nei prossimi giorni scopriremo di capire chi è. Di sicuro non si tratterà né di Castrovilli né di Lo Celso abbinati gli ultimi giorni al Napoli. Da Castellisango è davvero tutto, a voi la linea.